Apriamo le scritture al Salmo 84. Se possiamo abbassare un po' è molto forte. Alleluia. Durante la settimana ho avuto modo di ascoltare un messaggio, una predicazione di un ragazzo di 14 anni. E parlava o raccontava che nelle scuole medie era spesso soffriva il rifiuto, il rigetto. E siccome era bravo al football americano, lo hanno inserito nella squadra di football di queste scuole medie. Però lui raccontava che ogni giorno, ogni volta scusate, ogni volta che andavano ad una partita a giocare salivano sulla scuola bus, si chiama. Trovava un posto, era tra i primi a sedersi, dice però, nessuno mai voleva sedersi a fianco. E avevo sempre un posto libero accanto a me. Passavano, mi guardavano, vedevano il posto libero però, andavano avanti. Dice, questo mi feriva grandemente. Mi sentivo rigettato anche dalla squadra alla cui appartenevo. Però, dice, ho scelto di sondare le scritture perché non volevo sentirmi così, come si sentiva rifiutato. e dice chi ha visto nella parola di Dio che solo chi semina raccoglie. E il Signore gli ha messo in cuore di seminare amicizia, cercare di costruire ponti con gli altri ragazzi. e anche se ci provava spesso era vuoto. Questo lo feriva grandemente. Ma un giorno il Signore parlò a questo ragazzo e gli disse quando sali sull'autobus o su questo questo scuola bus quando sali cerca me perché io sono su quella su quella scuola bus viene sediti con me la saggezza di questo ragazzo mi ha toccato la sua voglia di sapere di più e lui continua dicendo che ha così toccato il suo cuore che cominciò a a vedere Dio come il suo amico dice cominciai a cercarlo ovunque dice veramente ho avuto una rinascita perché cercavo lui invece di cercare gli amici cercavo qualcuno che si sedesse accanto a me per cercare di costruire un'amicizia invece poi ho trovato Dio e Dio è diventato il mio migliore amico parliamo spesso di quanto sia importante avere amici quanto sia importante stare in comunione o avere comunione con gli altri ed è molto importante ma io credo che gli amici si creano quando tu sei alla ricerca di Dio Dio te li porta io stamattina voglio parlarvi del dimorare perché è una settimana che il Signore mi lavora su questo concetto dimorare cerchiamo sempre un luogo dove dimorare una dimora è un luogo dove si può abitare ma dove si crea un ambiente particolare che favorisce anche la nostra vita favorisce i nostri pensieri i nostri desideri quello che vogliamo la tua casa magari ha mobili che tu hai scelto le stanze sono adibite in un certo modo secondo come piace a te e quella è la tua dimora e vi assicuro che io e Lidia anche se viaggiamo tanto siamo stati in molte nazioni ma non c'è niente come a casa non vediamo l'ora dopo alcuni giorni in giro ma posti bellissimi dove ci vuoi trascorrere forse tre quattro giorni massimo ma poi alla fine non c'è niente come la tua dimora e come la mia dimora non c'è niente ed è così importante che Dio stesso ha detto io vado a prepararvi delle delle stanze una dimora per voi perché la dimora è importante giusto? andiamo al salmo 84 scusate inizia così dice quanto amabili sono le tue dimore o eterno degli eserciti l'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'eterno il mio cuore e la mia carne mandano gridia di gioia al Dio vivente anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari o eterno degli eserciti mio re e mio Dio mi fermo qui un momento per far dipingere un quadro se posso ma vediamo come il tempio questi erano i figli di core il tempio il tabernacolo già c'era e questi vedevano gli uccelli liberamente il passero la rondine fare la sua dimora dove questi figli di core volevano farsi la loro dimora ma guardavano da fuori non era permesso loro di entrare erano solo i sacerdoti che potevano entrare ma questi erano cantanti musicisti ma questi questi vedevano e vedevano anche gli uccelli che entravano e facevano dimora nella casa di Dio dice guarda dice io io ci vorrei entrare non posso questi nemmeno chiedono ed entrano e non solo si fanno un nido si fanno una casa ma guarda come questo questi figli di core che fanno una una un paragone pensando che anche gli uccelli del cielo riescono a farsi una dimora significa che dentro questi questi figli di core c'era un desiderio perché vedevano che c'era qualcosa di particolare rimanere nelle dimori di Dio nel luogo nella casa di Dio la casa di Dio è importante la casa di Dio non è importante meno male la casa di Dio è importante dice e continua beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano di continuo beati coloro che dimorano nella casa che trovano dimorano non significa che ci dormiamo qui ma è una dimora è un luogo dove l'incontro particolare con il Signore produce qualcosa produce che cosa si spesso si dice a fame ve ne mangianno giusto ma se non mangi ti passa anche la fame ci posso fare mia moglie cucina bene ma qui il salmista sta dicendo wow sta considerando sta ponderando delle cose stiamo facendo un percorso siate pazzi e qui dice ma io questa dimora questa dimora di Dio io ci vorrei entrare ma ci vorrei vorrei rimanere c'è un luogo dove possiamo venire apprezzo tutti voi che siete venuti stamattina era ovvio che o è ovvio che c'era un desiderio che vi siete grandemente rallegrati stamattina quando vi hanno detto andiamo alla casa del Signore giusto meno male possiamo continuare perché è importante è importante capire capire che c'è qualcosa c'è una dinamica particolare quando si viene tutti insieme nella casa del Signore Salmo 133 dice lì Dio ha ordinato la benedizione quando i fratelli dimorano cioè stanno insieme Dio ordina la benedizione quando i fratelli si cercano Dio ordina la benedizione quando si viene insieme per onorare il nome del Signore così cresce la tua vita così cresce la tua fede così tu puoi crescere nella conoscenza del Figlio di Dio ricordo in questo momento mi è venuto davanti Cesare aveva un motto il suo motto il suo motto è dividi e conquista avete mai sentito dire dividi o separa e conquista hai mai visto questi documentari degli animali safari e vedi come come questi animali queste bestie della campagna come i leoni parliamo dei leoni o le iene che cosa fanno cercano di isolare una persona emarginandolo dal gruppo perché una volta che è fuori del gruppo diventa però nella Chiesa non si capisce questo concetto non si capisce ancora il concetto diciamo sempre abbiamo tutte tutte le frasi particolari credo che nel tempo negli anni abbiamo imparato l'unione fa la forza e quant'altro lo diciamo ma non lo viviamo e io vi dico che c'era tanta forza questa mattina durante la loda e l'adorazione più di quanto ti immagini tu non l'hai visto però l'inferno tremava stamattina tu non l'hai visto tu non hai visto nemmeno il cuore di Dio che era così compiaciuto della tua lode perché ha visto la sincerità in molti di noi il desiderio di volerlo o voler esprimere la nostra lode il nostro ringraziamento al Signore e l'abbiamo fatto con la piena certezza quando quando dicevamo cantavamo confido in Dio io confido in Dio che cosa stavamo dicendo tu sei così importante sei la persona di fiducia sei l'unico in cui io mi posso fidare e ti pare se i tuoi figli venissero a te e ti dicessero mamma papà tu sei l'unica persona di cui mi posso fidare vedete come non è in chemo certo che riempie il cuore immagina che noi siamo malvagi è Dio che è santo è puro è giusto è perfetto in tutte le sue immagina come si sente lui quando tu vai e gli dici io confido in te perché al di fuori di te non c'è nessun altro e magari pensiamo che è un canto si canta seguiamo le parole uno dopo l'altro e mettiamo un suono dalla nostra bocca mettiamo una tonalità a queste parole ma poi rimane così oppure lo canti abbastanza fino a quando è il tuo cuore che canta e non sei più tu a cantare con la tua mente crescere nel Signore addentrarsi in questa dimora significa entrare con il tuo essere in tutto ciò che Dio ha provveduto per la tua vita e per questo invito meraviglioso da parte sua di farti entrare egli stamattina ti sta dicendo le mie braccia sono aperte come anche la mia porta puoi entrare e beati coloro che abitano nella tua casa e ti lotano del continuo noi veniamo nella casa del Signore per lotarlo giusto? veniamo nella casa per lotare veniamo nella casa per adorare che sono due cose diverse giusto? abbiamo capito amen noi veniamo nella casa del Signore perché è giusto farlo io benedirò l'eterno in ogni tempo quando mi sento e anche quando non mi sento quando mi sento forte e quando mi sento debole quando mi sento forte allora io mi sento meglio ma quando sono debole sono più efficace quando sono forte io mi sento meglio ma quando mi sento debole la sua forza in me mi rende più efficace per quale motivo il Signore ci parla costantemente del morire a noi stessi per quale motivo bisogna morire a noi stessi per indebolirci al punto da dipendere solo da Lui dipendere dal Suo Spirito che lavora da dentro di noi e fa uscire una lode spettacolare un'adorazione meravigliosa che Lui gradisce e riceve beato l'uomo che ripone la sua forza in te e che ha in cuore le tue vie quando attraversano la valle di Baga la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni che cosa significa Baga pianto è la valle di lacrime è la valle della debolezza è la valle che non ce la fai è la valle dove dichiari io confido in te non posso confidare in me stesso io mi fido di te in questa situazione della mia vita perché non so quale strada prendere non so quale decisione fare ma mi fido di te dici quando attraverso la valle di Baga la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia guarda le lacrime sono tramudate in sorgenti perché le lacrime alla presenza di Dio ascoltatemi bene qui io non sto dicendo che non bisogna piangere ascoltatemi bene io parlo di quando il tuo spirito entra in comunione col Signore l'anima risponde ma non che tutto parta dall'anima e dai sentimenti bisogna capire questo concetto cioè quando io entro nell'ambito dello spirito lo faccio perché il mio il mio spirito è arrivato al punto di sentirsi così unito al Signore dove la mia espressione diventa così libera che la mia anima scede e dà spagio al mio spirito è qualcosa che bisogna lavorare su questo lo so che tanti pensano che la presenza di Dio sia nella pelle d'oca che la presenza di Dio sia nel pianto no no il pianto viene a motivo di quello che il tuo spirito sta sperimentando in quel momento ci lavoreremo su questo ma la trasformano in luogo disorgente la prima pioggia la ricopre di benedizioni e si vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion mi fermo qui andiamo a Salmo 91 Salmo 91 un Salmo che conosciamo benissimo meraviglioso Salmo giusto? Dice così chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa chi dimora all'ombra dell'Onnipotente riposa lo ripeto chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa quanti hanno bisogno di riposo però qual è la chiave qui? dimorare non visitare dimorare non fare una visita ogni mottipastore non chiedono guapa dice chi dimora nel riparo dell'Altissimo notate queste cose perché è come se nell'Antico Testamento il Signore dicesse a tutti noi venite mettetevi sotto mettetevi sotto l'ombra delle mie ali forza mettetevi sotto fratelli nel Nuovo Testamento non ti mette su tenenti dice il salmista Davide molto probabilmente Davide dice io dico all'Eterno tu sei il mio rifugio e la mia fortezza il mio Dio in cui confido certo egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore della peste mortifera è come se Lui dovesse essere il tuo difensore costantemente perché sei sempre in un tipo di battaglia hai bisogno di soluzioni hai bisogno di vie di uscita hai sempre bisogno di qualcosa siete sempre nel bisogno amén siamo tutti in tuo bisogno abbiamo bisogno dell'ombra delle sue ali dobbiamo trovare riposo qui siamo dove? nell'Antico Testamento e dice così certo egli ti libererà non ti preoccupare sei sotto sei sotto sei al riparo se stai riposando all'ombra dell'onnipotente certo egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore della peste mortifera egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza tu non temerai lo spavento notturno nella freccia che vola povero Davide era sempre in mezzo a un tipo di fuoco c'era sempre qualcosa che lo stava minacciando nel Salmo 27 gli dice come vorrei rimanere alla tua presenza per mirare al tuo volto guardare la tua bellezza queste sono le cose che mi attirano eppure mi trovo sempre in questi fuochi costanti non mi lasciano un momento respirare è costante e quindi scrive questo Salmo 91 egli ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza tu non temerai lo spavento notturno né la freccia che vola di giorno né la peste che vaga nelle tenebre né lo sterminio che è imperverso a mezzo di sicuramente stava parlando al suo spirito e stava dicendo oh mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra ma a te non si accosterà basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi nel nuovo testamento non c'è la retribuzione degli empi signore salva gli empi poiché tu hai detto eterno tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'altissimo il tuo riparo non ti accadrà alcun male né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda poiché egli commanderà ai suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra vi ricordate quando Satana ha incontrato Gesù nel deserto e lo ha portato sul tempio ha detto buttati giù tanto è scritto nel Salmo 91 che anche se il tuo piede inciampa contro una pietra gli angeli saranno lì presenti per rialzarti e non cadrai non ti farai male e Gesù rispose non tentare il Signore Dio tuo sta scritto tu camminerai sul leone sull'aspide calpesterai il leoncello e il dracone poiché egli ha riposto in me quindi adesso parla il Signore poiché egli ha riposto in me il suo amore io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro perché conosce il mio nome conosce il mio nome se non dimori con qualcuno non lo potrai mai conoscere egli mi invocherà e io gli risponderò l'abbiamo pure cantato cercato Dio e lui mi ha risposto cercato Dio meraviglioso ma immagina se tu non lo dovessi nemmeno cercare perché ti fidi a volte noi lo cerchiamo perché pensiamo che lui non sta vedendo la nostra situazione e lui mi invocherà e io gli risponderò sarò con lui nell'avversità lo libererò e lo glorificherò lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza non è un meraviglioso salmo non ti accompagna non ti rialza non ti senti rialzato bene andiamo in Giovanni Giovanni capitolo 15 Giovanni capitolo 15 leggeremo al versetto 1 Gesù qui sta parlando ai suoi discepoli e sta dicendo loro io sono la vera vita se diceva che c'era una vera vita sicuramente c'era una falsa vita ogni ideologia in questo mondo è una vigna ma colui che tende cioè che si prende cura di questa vigna è Dio il padre rappresentato qui come l'agricoltore dice il padre mio è il vignaiolo l'agricoltore cioè si prende cura perché la vera vite gli interessa le altre vite non gli interessa ogni tralcio versetto 2 ogni tralcio che in me non porta frutto cosa fa? lo toglie via questa parola all'originale non significa che lo taglia via lo toglie dalla sua presente condizione dove dove si trova perché non è una condizione dove può portare frutto quindi che cosa fa? l'originale dice lo rialza come un tralcio che nella vite poi si abbassa e cade nel fango non può produrre frutto ma una volta rialzato che cosa fa? riesce a produrre i grappoli d'uva giusto? quindi lo toglie via ma ogni tralcio che porta frutto cioè qualcosa che è già fruttifero lo monda affinché ne porti ancora di più notate? due parole in particolare in questo versetto e sono in me ogni tralcio che è in me chi è in Cristo? grazie pastore chi è in Cristo? ma ti sei guardato ultimamente allo specchio? se sei in Cristo devi essere fruttivo e se non sei fruttifero forse te ne calasti trovi la tua vita nel fango e qualcuno ha bisogno di rialzarti il Signore vuole rialzarti dalla tua presente condizione e metterti in condizione per questo mettono i fili nelle vigne mettono tutti quei fili di acciaio se non sbaglio sono d'acciaio perché vogliono che la la vite cresca proprio su quella su quei e produce molto di più giusto? ok? ma se li lasci crescere nel fango non produce frutto grappoli d'uva nel fango non possono crescere tu senza il Signore non puoi fare niente e se sei nel fango non porterai mai frutto ma ti sei mai chiesto che tipo di frutto posso io produrre per l'avanzamento del regno di Dio? non mi basta il tempo ma ogni traggio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata ecco versetto 4 dimorate in me e io dimorerò in voi come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vide così neanche voi se non dimorate in me alcuni vogliono portare frutto senza dimorare in lui io prego che voi stiate ascoltando con il cuore perché queste sono profonde verità perché molti dei figlioli di Dio dicono signore io vorrei fare di più e vanno alla ricerca di fare qualcosa di più ma io non voglio essere fruttifero dalle mie forze io voglio essere fruttifero perché sto dipendendo dalla linfa vitale che scende dal cielo ed è il figlio di Dio che è la egli è la vide il tralcio non può fare nulla da sé è un tralcio e basta un conduttore prende la linfa vitale e poi attraverso quella linfa vitale produce il frutto ma senza la linfa vitale il tralcio non può fare niente è come facciamo tante opere per Gesù ma che non sono innestate nella vita non sono uniti a lui l'opera di Dio va avanti l'opera globale di Dio va avanti attraverso uomini e donne non che vivono così a casaggio ma perché ogni giorno scelgono di posizionarsi in Cristo perché vogliono essere non solo amici ricordate poi lo leggeremo il Signore dice io non vi chiamo più più serviva vi chiamo vi chiamo amici abbiamo pure cantato amico come quel ragazzo di 14 anni che ho raccontato all'inizio lui voleva essere fruttifero nella vita voleva produrre voleva amicizie voleva cercava con i suoi modi di produrre qualcosa che lui potesse dire guarda quello che ho fatto ti do una rivelazione il tuo servizio senza allunzione di Dio sulla tua vita non vale niente perdonatemi magari la scuva in te mani perché ogni compito nella casa del Signore è un compito spirituale anche Zorobabello parliamo di Zorobabello e di Giosuè in Zaccaria capitolo 4 dice non è per forza né per potenza ma è per il mio spirito dice il Signore dice quel monte non resisterà davanti non a Giosuè ma a Zorobabello che era la responsabilità civile aveva questa responsabilità di portare avanti l'opera di Dio e per questo il piombino fu messo nelle sue mani non nelle mani di Giosuè Zorobabello lavora ma ha bisogno anche lui dell'unzione di Dio per portare avanti l'opera di Dio tutto quello che si fa per il Signore deve essere fatto e compiuto per mezzo dell'unzione l'unzione non è un sentimento l'unzione accompagna passi di ubbidienza è di sottomissione a Dio oh Signore mi sento traboccare di tante cose che vorrei dire stamattina ma Gesù chiaramente dice dimorate in me quindi io sono in Cristo così solo Cristo dimora in me se io dimoro in Lui Lui dimora in me questo mi rende fruttifero non sarai mai fruttifero se vai a dire tutto il Signore è dentro di me il Signore è dentro di me ma tu non sei dentro di Lui grazie Signore aiutami ci sto andando piano perché voglio che questa proprio entri nei vostri cuori ci dovete credere a quello che stiamo dicendo questa è parola di Dio e Gesù chiaramente dice senza di me ripetiamolo senza di me voi non potete fare nulla senza di me ha voglia provare tu vuoi portare avanti questo questo ministero e questo altro ministero senza Gesù non funziona versetto 5 dice io sono la vide voi siete i tralci chi dimora in me è io in Lui nota che Gesù dice è io in Lui porta molto frutto poiché senza di me non potete fare nulla se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca poi questi tralci si raccolgono si gettano nel fuoco e sono bruciati sono arsi cioè che non hanno un servizio chi mi vuol seguire prenda la sua croce e mi segua signore io andrò ovunque tu vai con la bocca andremo dappertutto con il cuore rimaniamo a casa la nostra indifferenza non ci permette di gustare la vita la vita piena di Cristo è il frutto che poi dà gloria al suo nome una vita cambiata una vita trasformata parla della sua gloria una vita trasformata racconta le meraviglie di Dio perché nessuno qui dentro è capace a cambiare un'altra persona ma lo spirito di Dio che entra in una vita la trasforma la cambia quella vita prende una nuova direzione con nuovi interessi e tutta ad un tratto cose della vita importano sempre di meno interessano sempre di meno ha voglia di cercare di costruire castelli fantasie fantasticare tante cose ma senza il Signore tu e io non possiamo fare nulla se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi quanti vorrebbero chiedere al Signore qualsiasi cosa e riceverlo mi sorprende lo ripeto quanti di voi vorreste pregare e chiedere al Signore a ricevere quando hai bisogno di un miracolo un dato vita che fai? fratelli abbandonate la doppiezza e siate sinceri se tu hai bisogno di qualcosa e Gesù ha detto qualsiasi cosa chiederete al Padre egli ve la darà cosa succede quando non la riceviamo? no e perché non siamo in lui perché quando si dimora in lui e lui dimora in noi chiedete quel che volete e vi sarà dato che significa dimorare in lui significa che io permetta lo Spirito di Dio anzi ascoltatemi fate attenzione vi dico di più chi mai chi di noi pratica diciamo insieme pratica chi di noi pratica la presenza di Dio la pratica cosa significa si addestra a rimanere sempre conscio consapevole della sua persona non ti cambierà lui cambia magari il tuo cammino il tuo carattere e quant'altro ma la decisione di seguire in lui di seguire lui ed essere in lui sta a te notte e giorno la sua mano era su di me notte e giorno certe cose non ci lasciano giorno e notte ci visita anche quando dormiamo ci sveglia per quale motivo ricordo una volta mi lamentai un poco anche con mio padre disse a papà papà l'ho chiamato era in America papà era qui in Italia l'ho chiamato ho detto papà ma io a notte dormo durante la notte mi sveglio e sto predicando dappertutto e sto predicando ma io ho bisogno un po' di riposo e predicavo e predicavo e papà mi ha detto queste sagge parole non chiedere mai al Signore di toglierti quello che ti sta succedendo ti darà riposo tranquillo perché quella quella costanza quel desiderio divenne quasi innato dentro di me c'era qualcosa che mi spronava ogni giorno a volere di più e anche se il mio corpo e la mia mente diceva ma tu addommari non è che puoi fare no no andare a letto a luna e svegliarmi alle 4 e le 4 e mezza e cominciare il mio giorno come? con un'ora di preghiera perché dovevo stare alla presenza di Dio è così che ho ricevuto la chiamata qui in Italia nasce da un rapporto intimo con Cristo noi vogliamo dimorare presso i cortili come abbiamo letto dei salmi noi vogliamo dimorare all'ombra delle sue ali perché là troviamo il nostro rifugio il nostro riparo là troviamo il nostro riposo ma non sarai mai fruttifero se non ti innesti nella persona di Gesù Cristo e permetti alla sua vita di esprimersi attraverso la tua se dimorate in me le mie parole dimorano in voi domandate quel che volete e vi sarà fatto vi posso dire una verità più c'è questa intimità e meno chiedi al Signore perché ti fidi lui lo sa quello che ho di bisogno diciamo la mattina Signore ho bisogno già abbiamo questa lista questa gran lista che non finisce mai punto uno uno A uno B e uno C due due A due B avete capito e abbiamo tutta la lista con categorie e sotto categorie il Signore di me da arrivare e fa sta venendo di nuovo mi deve raccontare le stesse cose che mi ha raccontato ieri e il giorno dopo se c'è un'altra cosa domanda sì Signore perché noi senza di Te non possiamo fare nulla guarda io e Lidia non siamo speciali non siamo speciali ma prima di chiedere a volte a volte riceviamo quello che Lui già sa e avremmo di bisogno prima che tu chiedi Egli già supplisce ad ogni tua necessità perché conosce ma posso chiederti ti fai conoscere? no il Signore conosce tutte le cose è vero il Signore conosce tutte le cose Lui sa perché è onnisciente e sa e vede tutte le cose cosa meravigliosa c'è stato un momento nella mia vita come c'è stato un momento nella vita di mio padre quando eravamo malati mio padre non pregava mai per noi perché il Signore gli aveva detto tu prenditi cura della mia opera io mi prendo cura della tua famiglia e per questo non eravamo mai malati Lui si prendeva cura di noi magari ci veniva qualche virus o qualcosa papà non pregava mai non imponeva mai le mani su di noi mai si fidava di Dio perché Dio aveva promesso che si prendesse cura della sua famiglia non vorresti arrivare al punto dove la tua famiglia non ti preoccupa più almeno io vivo così ora imparato da Lui sapete perché? perché dobbiamo arrivare al punto dove siamo così uno con Gesù che Lui sa quello che so e io so quello che Lui sa Gesù era così uno col Padre che diceva tutto quello che è del Padre mio e mio era convinto alla risurrezione di Lazzaro che cosa disse Gesù? io lo chiedo per loro perché loro hanno bisogno di comprendere e imparare questa lezione ma io so che tu sempre mi ascolti non è meglio vivere così sapere che Egli sempre ti ascolta dove tu nella tua mente nel tuo cuore non hai nessun dubbio ti fidi ti fidi di Dio sto per chiudere e Gesù disse in questo è glorificato il Padre il Padre mio che portiate molto frutto ascolta il Padre è glorificato quando? quando portiamo? quando portiamo molto molto frutto il Padre è glorificato ma se non sono uno con Cristo non posso portare il frutto e tutti stanno vedendo i scecchi cadere a tutte le parti ma è la verità è la verità che senza Gesù noi non possiamo fare nulla se Egli ci risponde se Egli ci guida se Egli ci apre porte che nessuno può chiudere se Egli chiude porte che nessuno può aprire se Egli si muove a pro tuo e a pro mio lo fa semplicemente perché c'è un rapporto particolare e prima che tu chieda Egli già ti risponde se se osservato i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e dimoro nel suo amore guarda sta dicendo che il rapporto che io voglio con voi è lo stesso rapporto che io ho avuto con il padre che tipo di rapporto pensi Gesù aveva con il padre e finisco con questo versetto questi versetti vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi è gioioso relazionarsi con Gesù Cristo è una gioia sapere che egli è con noi è una gioia sapere che ci accompagna è una gioia sapere che egli è a pro nostro compie tutto vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa alziamoci in piedi questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi versetto 14 voi siete miei amici quanti voi siete amici c'è una condizione se fate le cose che vi comando c'è un se dove ti muori dove è la tua casa dove ti sei posizionato dove trovi il tuo riposo dove trovi il tuo riparo nell'antico testamento nel salmo 91 no no io preferisco Giovanni 15 anziché salmo 91 perché non c'è bisogno che io chieda a lui egli è il mio protettore due volte per quelli che non lo sanno due volte il signore ha salvaguardato la mia vita e quella di mia moglie su un aereo che stava cadendo in l'aria due volte perché satana ha detto io ti ucciderò in un incidente aereo la prima volta a seconda volta non tanto il signore proprio si è fatto sentire l'ho sentito venire davanti come una persona proprio che stava in piedi davanti a me e mi ha detto non avere paura Lidia mi fa che dissi in dialetto in particolare e guarda caso che il signore aveva dato un sogno a Lidia durante la notte prima di partire dando a lei il nome di dove saremmo arrivati un'altra storia una storia che racconterò un altro tempo ma come il signore ci ha salvaguardati attraverso un atterraggio che è stato pericolosissimo un consiglio fai di tutto per dimorare in lui fai di tutto le porte di questa comunità sono aperte oggi tutte le comunità sono aperte ma immagina se il tempo arrivasse quando non ci possiamo l'abbiamo un po' sperimentato col covid dove non potevamo radunarci insieme immagina se fosse a motivo del governo che tutta ad un tratto non ci permette di venire insieme non aspettare di venire nella casa del signore per ricevere una parola da parte di Dio impara a riceverla per te stesso io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il suo signore quanti servi ci sono qua ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio Gesù ci fa conoscere tutto quello che ascolta tutto quello che il padre gli dice ce lo fa sapere non perché siamo servi ma perché siamo amici tempo di sviluppare un'amicizia con lui di diventare intimi con il signore dargli lo spazio il tempo di parlare ai nostri cuori amè alziamo le mani al signore signore ti ringraziamo che tu non hai aspettato che noi scegliessimo tema tu hai scelto noi signore non solo ci hai scelto ma ci hai costituiti perché potessimo andare portare frutto e che il nostro frutto sia duraduro affinché qualunque cosa chiederemo al padre nel tuo nome egli ce la dia sì signore questo è il tipo che tipo di rapporto che desideriamo fa che tutti possiamo crescere in questa conoscenza di Gesù Cristo signore non come non come un solo il figlio di Dio ma come il nostro amico fratello maggiore dimorare con lui stare con lui ascoltare lui chiedere a lui ricevere da lui signore è questo che noi desideriamo noi desideriamo essere testati nell'animo nello spirito per cercare il tuo volto signore giorno e notte insisteremo fino a quando il nostro rapporto con te diventerà quello che tu desideri padre ti benediciamo ti glorifichiamo e ti magnifichiamo per Gesù Cristo il signore e la chiesa dice amén Dio vi benedica andate in pace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti